Scena due, check, tre Faccio fare un po' più evidenti Backstage Allora dai, parliamo di figa Anche se la faccio un po' sbollata va bene Beh dai Io sono già partito per un odore Partito? Audio partito, check in campo Treno un attimo Vingo corti una via E' verdura nuda? No, 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 io questo lo sbaglio Ma che cazzo lì? No, 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 no No, 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 no Ok, sì però mi piace uccidere le persone Dai, voltami, dai Lei è scappata No, me l'hai affatto, lei l'ha inizia Stop Dai, rifacciamo un attimo al volo Ok, partito io Mi hanno detto l'oro di fare e non era male I nostri ospiti Paolo e Vapampu Cambiare la batteria, le mani Tirantura? Cos'è? La l'oro Merda, l'oro della prima della moto È un meraviglioso Unipros Unipros Unipro Un'attimo C'è un'altra Non basta Non ci passa Vai, 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 vai Spazze Buona, è il tipolano o no? E vai, è il tipolano Ok, buona Solo 30 secondi in più Vai Non so se ci siamo capiti Mi dà una mano a slegare Martina Libera Primo piano Una fulgida Ehm Di come Cotare i rami durante la Una fulgida merda Se non stiamo insieme Non stiamo Ah, beh Non ti prego rifarlo Scusami che non ero arrivato Mi stanno parlando sopra Ok Guglielmo con il cane che salta lì indietro Cazze